Sono quasi pronta, questa sera ci vediamo su Rai3, a che tempo che fa, vado a trovare il mio amico Fabio Fazio e parliamo anche di Scegli di sorridere. Ci vediamo dopo! Poco vado in Rai, ci vediamo penso poco prima delle 11, una roba del genere. Comunque dopo vi avviso se ho un orario preciso. A dopo! Mi stanno operando, ma mi stanno solo truccando. Queste norme anti-covid però sono bellissime, posso dire. Pocchissimo siamo al tavolo, giuro che questa è la quarta storia che sto cercando di fare perché il mago non si ferma. Sono abitato col VHS che giravo per ore e ore. Comunque ci vediamo tra pochissimo su Rai3. Ormai qui siamo tutti super social, soprattutto il mago Forest. Mago ma lo devi mettere verticale il telefono, quello è la base. Ah sì, è stato l'unico caso. Ragazzi ci state seguendo? Guardate che bel tavolo oggi. Con me, accanto a me, Marzullo. Ti faccio fare la domanda, però te la fai per me in cibo? Saluta Fabio! Ciao! Con chi sto parlando? Con Instagram! Ciao Fabio Chi! Ciao Fabi! Ciao Fabi! Pausa pubblicitaria, con candelline spente. Adesso vedi che cosa succede? Cosa succede adesso? Adesso c'è l'ora di Marzullo. Ok. Noi abbiamo fatto che a questo momento è l'ora di Marzullo, sono degli effetti che arriveranno in studio. Pirotecnici? A tra poco. Ragazzi adesso... Ci siamo eh, ci siamo quasi, che tempo che fa, che tempo che fa. E che c'è sotto la mano? Che tempo che fa? Che tempo che fa? Fa freddo. Fa freddo, fa freddo, vale. Il tempo è freddo. Ci siamo a tra poco, che tempo che fa? Rai 3. No! Allora! No!